Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 19 dicembre. Ariete, il dovere viene prima di tutto. Oggi dovete prendere di petto alcuni problemi e trovare in fretta una soluzione se non volete essere accusati di scarso impegno. Toro, in questo martedì sarete tranquilli ed efficienti. La luna vi rende anche ambiziosi, un traguardo importante potrà essere raggiunto facilmente. Gemelli, le occasioni per migliorare la vostra condizione ci sono tutte, ma non dovete mai prendere le cose con leggerezza. In amore siete in una fase di riflessione. Cancro, una bella luna apre scenari inediti in amore. Dovete essere disposti a cambiare radicalmente le vostre abitudini se volete dare una svolta risolutiva. Leone, l'umore non sarà dei migliori, ma l'importante è non coinvolgere il partner e i familiari nei vostri problemi professionali. In amore siete un po' avventati. Vergine, appena potete ricordatevi di dedicare un po' di tempo al relax e allo svago. La compagnia di vecchi amici o del partner riesce a farvi scaricare lo stress. Bilancia, in amore molti di voi non sono del tutto soddisfatti. È per questo che spesso vi fate distrarre dalle nuove conoscenze. Sul lavoro siete abili e fortunati. Scorpione, avete ottime occasioni in amore. Mettete da parte quel vostro atteggiamento un po' burbero e vedrete che qualcuno è disposto a coccolarvi. Serate emozionante, sagittario, con la luna in pesci. Non riuscite ad essere imparziali nei giudizi. Vi capita spesso di giudicare con troppa severità i comportamenti degli altri. Capricorno, in questo momento prevalgono le attrazioni fatali in ambito sentimentale. I nuovi incontri spesso non portano a storie importanti, ma a semplici avventure. Acquario, ascoltate i consigli di un amico che magari vi sprona a coltivare una vostra passione o a mettere in evidenza una dote che solo voi sapete di possedere. Pesci sotto questa luna sono favoriti tutti i rapporti sociali. Vi capiterà di conoscere persone interessanti che rimarranno affascinate dal vostro modo di pensare. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus.